Ivana e Luca dopo il bacio, arriva il messaggio dell'ex tronista Ivana Mrazova e Luca Onestini, dopo il bacio a Mattino 5 l'ex tronista chiarisce la situazione. . Luca Onestini ha chiarito la sua attuale situazione sentimentale con Ivana Mrazova dopo il grande fratello V. A Mattino 5 i due ex concorrenti hanno dato molte speranze al pubblico che vorrebbe vederli come una coppia. Infatti, Luca ha dato un bacio a Ivana in diretta. La modella, inospettatamente, non si è tirata indietro, anzi. Dopo i molteplici messaggi da parte dei fan, Lonestini ha scelto di ribadire quanto sta davvero accadendo tra lui e Ivana. . I telespettatori hanno notato il loro avvicinamento all'interno della casa più spiata d'Italia. Sin da subito il pubblico ha apprezzato questa coppia, che però non ha mai rivelato di essere tale. . La Mrazova era ancora fidanzata durante il reality. Ma una volta uscita dalla casa ha lasciato il suo compagno, accendendo nuove speranze nei fan. . Luca e Ivana continuano a trascorrere del tempo insieme e sembrano inseparabili. . Nonostante ciò, non sanno ancora cosa riserverà loro il futuro. . Ed ecco che Luca ribadisce, ancora una volta, che tra loro c'è solo un'amicizia. . . Luca Onestini parla di amicizia con Ivana Mrazova, ma continua a far sperare i fan. . Il rispetto è la pazienza di conoscersi a fondo senza maschere, senza bruciare tappe, senza aspettative. È così che Luca decide di chiarire le idee ai fan, dopo il bacio in diretta a Mattino 5 con Ivana. . Ad oggi è stima, fiducia e amicizia pura. Per ora non è, dunque, ancora nata una storia d'amore, come invece speravano i telespettatori che li hanno seguiti. . Ma, anche questa volta, Luca non intende chiudere completamente le porte alla nascita di una relazione con Ivana. . Domani chissà cosa ha scritto per noi il libro della vita. Un minimo di speranza, dunque, per i fan. . I telespettatori vorrebbero, sicuramente, cancellare la parola amicizia e metterci amore, ma per ora la situazione sembra essere questa. . Luca Onestini lascia le porte aperte per una storia con Ivana Mrazova. . Dopo la grande sorpresa a Mattino 5, Luca ha scelto di chiarire la situazione che sta vivendo con Ivana. . . Non ci resta, dunque, che attendere per scoprire se tra i due finalisti del noto reality nascerà una bella storia d'amore oppure resteranno semplicemente buoni amici. .